Il Comune di Eboli ha approvato il progetto denominato Condividere i bisogni per condividere il senso della vita del Banco Alimentare Campania Onlus, che prevede la consegna mensile di 100 pacchi alimentari contenenti generi di prima necessità da destinare a nuclei familiari che versano in stato di indigenza per la durata di un anno. Il programma è previsto con decorrenza da gennaio 2019 a dicembre 2019. Gli interessati dovranno presentare domande all'ufficio protocollo del Comune di Eboli sugli appositi modelli predisposti dall'ufficio politica e sociali disponibili presso l'ufficio relazioni con il pubblico entro e non oltre le ore 12 di venerdì 23 novembre 2018. La distribuzione alle persone individuate dal bando avverrà cura dell'associazione Eboli Solidale presieduta da Antonio Santimone.